Signagia 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, sono in compagnia di Edoardo Ribicheso, di Realisti. Qual era un commento a caldo su questa giornata? Beh, direi un commento più che positivo Gerardo, una giornata veramente ricca di contenuti, di spunti e di tantissimo networking. Rispetto all'anno scorso abbiamo ancora fatto un passo avanti, quindi ti faccio anche i miei complimenti perché è veramente un ottimo, ottimo evento. Grazie. Realistico, cosa sta facendo in questo periodo per gli agenti immobiliari e se ci puoi svelare qualche chicca per il 2020? Beh, Realistico si concentra sul facilitare sempre una cosa, documentare al meglio l'immobile e promuovere al meglio l'immobile. Nel 2020 abbiamo tante novità da lanciare e vanno tutte in questa direzione, tutto nel fatto di dare all'agente immobiliare gli strumenti più semplici possibili e più potenti possibili allo stesso tempo. Questo rimane il nostro obiettivo. La visita virtuale al momento è il 100% della nostra offerta. Posso darti qualche anticipazione, non sarà più il 100%, ci allargheremo leggermente. Dove? Non c'è più. Non posso dire di più. Non posso dire di più. Mi chiamando io a me. Grazie mille. Grazie a te Gerardo, grazie. Ciao, ciao.